Tra i tanti spifferi che soffiano nei corridoi di palazze stesse ce n'è uno che guarda al dopo elezioni e ipotizza il nuovo assetto dell'amministrazione comunale di Varese. Protagonista del mini rimpasto, Maria Chiara Gadda, deputata uscente e ricandidata, la quale, in caso di mancato ritorno alla Camera, verrebbe paracadutata in giunta in qualità di assessore all'ambiente. L'esecutivo vedrebbe così rafforzarsi la presenza del terzo polo, con buona pace del PD e registrerebbe l'uscita di scena dell'attuale assessore Nicoletta San Martino, per la quale al momento non si prevede alcun paracadute. Il voto del 25 settembre, però, non sarebbe l'unico spartiacque all'origine del cambio della guardia. Le critiche al nuovo corso della gestione rifiuti e le ripetute richieste dell'opposizione affinché si organizzi un consiglio comunale ad hoc sembrano spingere il sindaco ad accelerare un cambio di passo che, letto in controluce, potrebbe somigliare a un assist. La svolta, infatti, consentirebbe al primo cittadino di fare di necessità virtù. Garantirebbe un autorevole approdo a un esponente politico storicamente vicino a Galimberti, la quale, dallo stipendio parlamentare, passerebbe quindi all'emolumento comunale e, nel contempo, asseconderebbe, almeno sul piano formale, quella discontinuità più volte invocata dalle minoranze.